Un apriclub dell'Emilia Posso dire, non le diciamo mai queste cose perché ci piace sempre a zuffarci Meraviglioso il minuto di silenzio Meraviglioso la... Sì, sì, assoluto No, ma devo dire anche i calciatori in panchina, anche quelli del Napoli Li ho visti con Mocia, è bello, veramente bello Cioè è inutile che la facciamo Quando una cosa è bellissima, da parte di tutto lo stadio Soprattutto anche del pubblico di Napoli, bello Bene, bene, per una volta diciamo che non c'è nulla da eccepire Manifestazione corretta, composta da parte di tutti In maniera anche civile Visto che a volte purtroppo... Sì, noi diciamo civile quando le cose dovrebbero essere normali Diciamo che è stata una roba finalmente normale Va bene, va bene Allora siamo pronti a partire Non ho capito il... è un gufo quello? Sì, perché se non me ci abbiamo gli occhi parecchi Ah, ci sono tanti gufi Vorrei tirare fuori una bella pompigliata Per far preoccupare Mimmo Una bella pompigliata L'arbitro è Massa ed Imperia Partiti! La Liguria, la Sampdoria Ma come l'arbitro d'Imperia contro una bella pompigliata Mimmo, guarda che è arrivato dicendo Oggi la Sampdoria porta via un punto Va bene, restiamo in cronaca, pronti? Sono già partiti, vai Mimmo! Insigne, attenzione, riesce a saltare, mamma mia! Subito la prima occasione per il Napoli Veramente una bella infilata che ha messo quasi a tu per tu Insigne con... come si chiama il portiere? Audeo Audeo, Audeo Allora, c'è stato subito il primo guizzo Chi è stato a lanciare? È stato Mirai Amsic non gioca? No, non c'è Amsic, è stato Javara Javara, lancio lungo che coglie impreparata la difesa della Sampdoria Portiere in uscita, Insigne però fa un pallonetto che è un po' debole Quindi scavalca sì il portiere Ma i difensori della Sampdoria hanno tutto il tempo per recuperare Poteva fare meglio i segni Gol della Lazio Milinkovic Milinkovic, Savic Porta in vantaggio la Lazio Azione da calcio di punizione 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 Sì, vantaggio sul Frosinone Se vuoi fare la cronaca tu, liberissimo Però è punizione Però attenzione perché vedo che c'è un braccio alzato dell'arbitro Con calma stanno valutando la VAR per la posizione di Milinkovic C'è stato prima un colpo di testa Milinkovic era sulla linea di porta annullato? Forse più che per Milinkovic sul primo colpo di testa che ha prolungato Vediamo Allora, rivediamo Sì C'era, c'era Sospetta Allora, sulla sponda Che poi porta la palla a Milinkovic, Savic C'è fuori gioco Credo che ormai non ci siano più dubbi Nel senso che con la tecnologia 3D Niente annullato 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 allora il gol di Milinkovic, Savic 0-0 tra Frosinone e Lazio Terribilmente aggressivo il Napoli in questi primi momenti Una cosa... Mamma mia Adesso è stato comunque messo a terra Allan Problemi per Allan Eh sì Problemi? Eh beh, gli è saltato sopra con... Sulla caviglia un calciatore della Samp Comunque il lancio per Insigne era di Allan Molto bravo in questa occasione, in questa partenza del Napoli Riparte la Samp però Sampdoria che si deve riorganizzare Però c'è un pressing a tutto campo Devo dire che è stata un po' anche travolta da questo entusiasmo partenopeo Capitonesco Potremmo dire iniziale del Napoli Adesso Sampdoria che prova a riorganizzarsi C'è ancora attesa Cercando ampiezza Attenzione la pallone ancora in avanti Sì, intanto che la palla è uscita In effetti c'è ancora l'arbitro Grazio Frosinone Che sembrava aver annullato il gol Invece adesso ci sono tutti i giocatori Fuori gioco In cerchio A distanza di sicurezza Non è che sono andati addosso all'arbitro Però sono tutti lì in attesa Perché l'arbitro sta parlando Fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Confermato fuori gioco Insomma ci è voluto un po' Però alla fine la decisione è stata presa Vuol dire che hanno verificato magari anche Delle immagini ulteriori Prego torniamo a Genova Vai Sampdoria che adesso prova a farsi viva Attenzione errori però riparte il Napoli Riparte il Napoli Prova l'appoggio Viene la Samba adesso in interdizione Pallone che torna Bravo Beresinski Pallone che torna indietro Attenzione Barreto Prova sulla destra Però poi è costretto ad arretrare Grande pressi nel Napoli Anche Insigne E Milik Sono i primi difensori Con Milik e Fassino Insigne Vieni con me E adesso prova in qualche modo Da Samba a scendere Barreto Attenzione ancora da destra In mezzo Attento tranquillamente al Biol Viene lanciato Adesso sulla sinistra Proprio Milik Armaduk Armaduk Milik Prova Il tunnel Non le riesce Guadagna una rimessa laterale Il Napoli che è partito molto molto bene Sampdoria che è sostanzialmente rintanata E prova magari in contropiede Vai ancora Mimo Sì ripartiamo da dietro con Casatiello Che allarga tutto a destra Dove c'è il commissario Basettoni Gli Usai Gli viene vicino subito All'Ana Scarica su Albiol Casatiello Proviamo a girare dall'altra parte Cuba Libre A sinistra Dove c'è Mario Rui Il bersagliere Sardo Gli viene vicino lo Zar One two Il Buantù riesce Parte sulla sinistra Cerca subito il Magnifico Che viene messo a terra Ma l'abito dice che si può continuare Anche la Sampa Che prova a riorganizzarsi Incredibile Il pressing del Napoli E Sampdoria che fa veramente fatica ad uscire Adesso può beneficiare Una punizione del cerchio di centrocampo Battuta Molto velocemente Troppo In effetti giusto farla ribattere Più che altro per la posizione Anche se La Sampdoria aveva fretta Di provare a colpire Prego vai Gianluca Ancora nel cerchio di centrocampo Pallone che gira adesso Anche l'Inetti Finora non è riuscito a entrare in partita Quagliarella Costretto a decentrarsi Sulla destra Bravissimo Poi Quagliarella In mezzo Intanto devo dire che Si gioca a calcio saponato Praticamente Torino Spal È un diluvio Pazzesco Quello che Povero Mazzarri Piove Come farà Mazzarrone E beh avrà di che lamentarsi Prego vai Gianluca Attenzione Pallone recuperato Nel cerchio di centrocampo La Sampa Ma non fatevi ingannare Un calcio puramente difensivo Quello della Sampdoria Sembrano forse innati Quelli del Napoli Sampa che cerca adesso Lo spiraglio Coulibaly Però è già in chiusura Prova in qualche modo La francese Di netti a girarsi Non ci riesce Tra dieci minuti Da Sampengolfi De Frel Ah questo il guizzo Di Vito Elia Da cosa lo Perché il Napoli Prende sempre il gol All'inizio Ah quindi prenderà sempre il gol Però se per caso Se ne ha il Napoli Se per caso Se ne ha il Napoli Il guizzo lo fa fuori Dall'ospedale Attenzione vai Gianluca Attenzione Palla in mezzo Napoli Vai Vito A prendere il caffè Attenzione Napoli che ne esce Di primo Mimmo Incredibile Hulk Che si libera Dell'avversario Bravissimo Verdi Verdi Ti piace Ti piace questa scelta Verdi al posto Di Camion Beh deve deve Sbilanciati prima Murru Sbilanciati prima Sì sì Deve fare queste scelte Murru 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 cosa ha fatto Palla Ha fatto fallo Su Barry Va bene Può ripartire il Napoli Sì Si si apprestava A battere la punizione Infatti sembra Opina E invece Lascia la palla giustamente A Cuba Libre Che la gira La gira a tutta sinistra Opina Opina Dove c'è il commissario Basettoni Che arresta gli avversari Gli viene in fondo L'incredibile Hulk L'incredibile Hulk Scarica la coda Sullo Zara Che cambia gioco A cercare subito Cuba Libre Cuba Libre cerca subito Il bestagliere Sardo Bestagliere Sardo In mezzo Lo Zardo Lo Zardo Alza la testa Lucco 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 Guarda i compagni D'altra parte C'è l'incredibile Hulk Che sbaglia L'aggancio Verdi Mamma mia Però non mi aspettavo Che lasciasse fuori Il mio preferito C'è? Cos'è 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 Calleone Però adesso di davanti L'abbondanza c'è E deve dare spazio Anche gli altri Deve dare spazio È giusto È giusto Anche se ha sbagliato Questo signore Non è come Sarri Questo è uno Che gira le persone Ti prego Ti prego Non nominare Sarri Suma sta parlando Anche di Ancelotti Anche se ha sbagliato Sarri faceva calcio Non aveva le fisiche Di un roll Ma faceva calcio Invece il signor Angelotti Mauro In termini Dalla tua bocca Il nome di Ancelotti Non ci deve entrare Il signor Angelotti Quando Quando tu avrai vinto Quando tu avrai vinto Un decimo Delle cose Che ha vinto Ancelotti In Europa Lui era l'allenatore Ma ci sono I miei altri Di Bello Ma stai Quindi insomma Mimmo Anche Scusate Sono qua Sono qua So che la partita è lì Ma ogni tanto Ascoltatemi Stavo dicendo Anche se ha sbagliato Lo stop Giusto farlo Giocare Assolutamente Benissimo Riparte la Sampdoria Sì riparte la Sampdoria Non ho capito Cosa pensava di Ancelotti Però va bene Parliamo più a testa Oscar Te lo sai Che ti faccio queste cose Per te Per aiutarmi Esatto Ancora il pallone Giocato in linea difensiva In linea difensiva Prova a salire La Sampdoria Centralmente Ma il Napoli È straordinario Addirittura Sei giocatori Che vanno in pressing Simultaneamente Mi ha scritto Benaglio Qualcuno vuol sapere? No Non ci interessa Vorremmo che uscisse Con la moglie ogni tanto Buono Mi ha scritto Benaglio Dicendo che la Sampdoria Vince 2 a 1 Ecco Va bene Il Napoli vince Non è fatta Quindi Vito Elia E Benaglio No io ho detto Che segna Per i vantaggi Benaglio è il bulgaro Di Gorgonzola Ti dico solo questo Ho spiegato tutto Va bene Riparte il Napoli Dai Mimmo Sì Cuba Libre Allarga tutto a destra Troppo lontano Palla fuori Noi ci fermiamo un attimo Torniamo Doria Doria De Frel Un gol straordinario Amici che siete a casa Scende Saponara Grande contropiede Pallone servito per De Frel Ed è un gol Incredibile Mimmo Allora Corregimi se sbaglio No è tutto corretto L'assist Di Saponara Che Sventaglia Il pallone Verso De Frel De Frel Che arriva da dietro Tutto il tempo però Di avanzare Palla al piede Anche perché la difesa del Napoli Temporeggia 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 De Frel Al momento Della conclusione Va a Finisce proprio lì All'incrocio Molto bravo Vogliamo fare un applauso Al profeta di Viale Ungheria Vogliamo mangiarlo via Al profeta di Viale Ungheria Ma guarda un applauso Questo ce l'ha di mangiare Applauso 10 minuti All'anno e 58 È vero L'abbiamo anche deriso Facciamo tutto un mea colpa Bravo Vito Come quando si gioca a scopa Io alla premiera ce l'ho qua Bravo Bravo Guarda l'ultima cosa Sono testimone L'ultima cosa che ha nominato Vito Elia È il piano A cui si è fermato l'ascensore Quando ha detto vado al secondo Ma va bene Però insomma Bisogna ammettere che lui aveva detto Al Napoli Occhio al Napoli E qua al Napoli Adesso è un po' trastornato Una difesa di Pippe siamo Una difesa di Pippe Scendi scendi Mamma mia Attenzione Pallone adesso recuperato ancora Dalla Sampdoria Non c'è fallo Recupera la palla al Napoli Dai Via 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 Pipponi Via A cercare subito l'incredibile Ucchio L'appoggia su Armaduc Che viene steso E questo Opina Che mi avevi detto Grande portiere Beh che poteva fare Vabbè su questo tiro però La responsabilità del portiere Mauro Secondo me era messa malissimo La difesa La difesa mi sembra Però se fosse stato Donnarumma Avremmo detto Poteva prenderla Vabbè ma Donnarumma Non prende questo qua Non prende 6 milioni di all'anno Tu stai zitto e pensa a giocare Qua perde Qua non aggancia Milic Armaduc Vamone Vamone Chi? Infame No Come? A chi? Tonelli Ah perché poi era ex Ah perché era un ex Tonelli invece intelligentemente Prende fallo Da Coulibaly Sei sempre dell'idea Mimmo Che la formazione è quella giusta? Giusto far giocare No io credo che sia Se non è Carletto Ha sbagliato qualcosa L'ancilotto Perché qui Io avrei iniziato con l'undici Solito Alla Sarri L'avrei messo Poi dopo in corso d'opera Magari Perché il rischio è questo Devo dire che la linea È la stessa Riparte ancora la Samp Vai Gianluca Sì riparte ancora la Samp E attenzione Perché adesso il Napoli Si è un po' agitato Però deve riprendere Un attimo la sua tranquillità Solita Siamo abituati Ancora con i piedi Però mette un po' di difficoltà Mario Rui Rimessa per la Samp Doria Che sfrutta ovviamente Il grande momento Partita sentitissima ovviamente Dal pubblico Doriano Che ha tanto bisogno Ovviamente di calcio Ed è la prima partita Casalinga Stanno cantando tutti Sembrano stanno inglese Veramente Pallone poi adesso Giocato Sulla tre quarti Da qui all'indietro Ancora dove nel cerco di centrocampo Prova adesso la Samp Samp Un'altra ripartenza Riparte Napoli Dai Mimmo Sì adesso Albiol Casatiello Che ci prova Cercare infilata in mezzo Per lo Zar Lo Zar Zilischi Allraga tutta a sinistra Dove c'è Il bersagliere Sardo Che non ha spazi Scarica sul Cuba Libre Cuba Libre Alza la testa Non ci sono compagni Ritorna la palla Al Bersagliere Sardo Mario Rui Cerca lo Zar Il one two Cerca una serie Il one two La perde La perde La perde Lo sapevo io Che la perdeva Vai Gianluca Retroguardia Sampa Attenzione al pressing Che però è meno sfissiante Dei primi minuti È stato un po' colpito Sul morale Il Napoli Un pochino Palla poi di Andersen All'indietro Chiamato al lancio Audero E pallone Che la Samp Fasi molto confusa Di gioco In questo momento Palle alte Buttate da una parte Dall'altra No vabbè però Come vabbè No vabbè ma ragazzi Il Napoli gioca Disperato in questo momento Fine esageratamente Tanti errori In questo momento Vi leggo qualche messaggio da casa Per giocare bene Eliminare Allegri E Mandzukic Mi sembra un po' esagerato Bene Meno male che la Juve Ha tutti questi problemi Altrimenti non si giocava il campionato Andate a rivedervi Le partite di Scesni Con i piedi vale tre Buffon L'ora dell'aperitivo è passata Ma l'Inter Può avere timore Del Napoli Di Verdi E Isai Bettino Il Napoli è la squadra Che ha cambiato meno È una squadra che l'anno scorso È arrivata a 19 punti Davanti all'Inter Quindi deve avere timore Di questa squadra Cioè trova Verdi E Isai E non parla di tutti gli altri No Damsic Che è un giocatore Che a noi servirebbe Come il pane E sta in panchina Stasera C'è un calcio di punizione Qualche passo Oltre il cerchio di centrocampo Per la Sampdoria Vai Gianluca Attenzione ancora La Sampdoria Nel cerchio di centrocampo Si cambiano il pallone Orizzontalmente Quelli della Sampa Cercando poi ovviamente Un'altra combinazione Magari in ripartenza Come quella che ha portato Saponara E Defrella A combinare così bene Sampdoria che adesso Cerca di tenere il pallone Va dalle parti di Audero Andersen Si riparte Belli Tranquilli Nella propria metà campo Cercando gli agiligerimenti Attenzione Eludendo Eludendo Tra l'altro Il pressing del Napoli E poi Il lancio Questa volta in profondità Non arriva Napoli che deve ragionare Non so se sia scriteriata O Da Da sottolineare Con un applauso Il modo di approcciare La Sampdoria Nel senso che anche L'indifesa Il problema è se dura Fino alla fine Si ma poi non buttano via Il pallone Ma rischiano molto Sul pressing Mentre vedo l'arbitro Fanno rimbalzare il pallone a Torino Dicevamo che era una piscina Sostanzialmente La partita Mi pare che c'è stata Una Juventus Per oggi E l'arbitro era E l'arbitro era E l'arbitro era Un gelto Signor Collini Giovane Giovane Stiamo parlando Dei campionati di Serie A Sì Nel frattempo Mazzarri stava affogando Sì però Devo dire che Mazzarri Aveva L'impermeabile Con il cappuccio Ed era completamente Sotto il cappuccio bagnante Mazzarri ai braccioli Tra l'altro Ai braccioli Stava affogando Sì effettivamente Mi sembra Giusta la decisione Di Sospendere la partita Non so se Immagino non temporaneamente Se la sospende La sospende Definitivamente E beh non può mica Ricordatevi che Quella famosa di Perugia L'attesa di un'ora È qualcosa È una forzatura Però in teoria Potrebbe anche chiedere Di aspettare un attimo Vedere se spiove No? Non credo Va bene Vedremo Una palla in mezzo Mamma mia Qua due del Napoli Colpevoli Sull'arrivo Da dietro Di Quagliarella Che si stava presentando Con l'interno destro E lui di solito Da lì Può far male I due del Napoli Non mi sono piaciuti Perché si sono chiusi A sandwich Ma in realtà Ha lasciato passare il pallone E uno era Coulibaly E l'altro mi sa il viola Ho sempre loro due La palla si può prendere Ho sempre loro due Si può prendere Il tiro Perché stiamo rivedendo Spieghiamo Perché da casa Se no non capiscono Abbiamo rivisto il tiro Di De Frel Che è andato a insaccarsi Ci vuole un grande portiere Però non è andata Tanto lontano dal palo Quella spina Magari è il suo limite Quella palla lì Riparte la Samp Dai Gianluca C'è ancora la Samp Tiene palla nella metà campo Attenzione Poi si affida a queste ripartenze Sto facendo la Samp Adesso meglio la Samp Sì Anche dal punto di vista Devo dire psicologico C'è un pestone Che ha preso Barreto Uh intanto Sassuolo Che ha sfiorato il gol Un sinistro di Kevin Prince Boateng La Sassuolentus È andato vicino al palo Contro il Genoa Però sempre 0-0 Prego Cosa succede a Genova? Gioco è fermo C'è una punizione per il Genoa C'è stato un richiamo Devo dire verbale Credo all'Anna Ad all'Anna Riparte la Samp Dai Ancora cerco di centrocampo Palla giocata nel breve Ancora poi Si torna all'indietro Fino ad Audero L'anno scorso a Venezia Se non ricordo male Intanto gol annullato a Babacar Per fuori gioco Ragia fea Malazio Eh Cosa Mugugna Sembrate delle No Nel senso che la decisione Non era facile Credo però Che in quel caso Saponara Saponara E qua Coulibaly Non si fa Questa volta uccellare Lo chiude al momento Del tiro centrale Bene Coulibaly Stavo dicendo Che mi è sembrato Che Babacar Sia andato a segnare A gioco fermo Quindi credo Che l'assistente Avesse già alzato La bandierina Però poi Rivedendo il replay Questo forse Era uno di quei casi In cui era meglio Lasciare andare A fidarsi al 3D Prego Napoli Attenzione Lorenzo Che sbaglia Veramente Non è ancora entrato in partita Lorenzo Insigne Però la recupera Napoli In zona calma Attenzione Alana Mechita Scarica dietro A cercare Diaverà Giavarà Giavarà Già gli viene vicino Subito lo Zar Siamo sulla sinistra Seguirà sicuramente Il bersagliere Sardo Lo trova Ancora lo Zar Ancora Giavarà Cambia gioco Sulla destra Dove c'è nella metà campo della Sampdoria vai Mico ancora scusate Albiol Albiol ancora Giammarali infilata in mezzo si gira e viene messo a terra calcio di punizione la facciamo vedere da dove battono usiamo la lavagnetta mi sembra che sia una situazione interessante per il Napoli troppo lontano dite voi aveva tre davanti che cosa vai a fargli fallo lì andiamo a vedere chi la batte credo in signa adesso vediamo c'è anche l'incredibile Hulk che potrebbe andare ma in signa non vai in nazionale non vai in nazionale perché? no chiedo vediamo caccia di punizione scusate se ho chiesto ci mettono un po' a comporre la barriera stanno sulla palla come immaginavo ci sono sia tra l'altro curiosa la scelta della Sam di mettere poi anche un giocatore dietro alla barriera Linetti mi è sembrato Ekdal sia l'incredibile Hulk che in signa tutti e due sulla palla parte in signa e alto sulla traversa alto tiro Linetti indietro a lucidare un pochino la barriera ma quando non la vedi che adesso ecco qua altissimo male male brutta la conclusione quando non la vedi tira forte sul portiere che non la trattiene uno va lì a tappi la butti dentro va bene questi consigli per chi deve tirare una punizione a calcetto domani prego sbaglia il rinvio attenzione recupero All'Anama All'Anama Scarica sul Giavara Giavara cerca lo Zara che fa correre la palla a cercare subito Rui e bene a salire Sardo però è chiuso è veramente pressato Cuba Libre look 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 lancio l'ongo 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 a cercare il tributo la metà terra male una grandissima giocata della Lazio con un triangolo che ha mandato praticamente Milinkovic Savic da solo in area a conclusione mi è sembrato sull'esterno del palo vicinissimo al gol gol del Genoa gol del Genoa gol del Genoa in vantaggio in casa del Sassuolo Piotek è lui che porta in vantaggio il suo secondo gol nel polacco sì ha timbrato già due volte su due l'onda cosa è successo cosa è successo è stato un'azione incredibile un'attraversione in mezzo l'incredibile Hulk al volo prova la battuta anzi no la rimette in mezzo colpa di testa di Milink esce il portiere beh l'arbitro vede una carica al portiere che io sinceramente non vedo come no non vedo non vedo però ha preso anche con la mano si è giusto ha fatto Ponte per farlo ma che Ponte è il portiere che gli va addosso che Ponte è il portiere che gli va addosso intanto ci segnalano che Torino è stata definitivamente rinviata Mazzara è tutto contento meno male Mazzara è contento per le piovine va bene vediamo il Napoli dai spieghiamo però che la decisione dell'arbitro mi sembra corretta ma non tanto il portiere appena lo tocchi la classifica ti piace? vabbè dico quelli di Ferrara saranno contenti da quando tempo non succederà ricominciamo con le partite da recuperare Garioni non si capisce più niente in questo momento il punto è accreditato però ovviamente la partita viene rinviata quindi tornerà giù di uno prego si riparte Napoli addietro Cuba Libre Cuba Libre Lucco Lucco li vieni vicino all'anima nel cerchio da campo allarga tutta destra c'è l'incredibile Hulk si guarda in mezzo la cambia gioco tutta a sinistra la mette a terra il bersagliere Sardo Milagri prima scolastico scolastico però un bel tiro quello di Milik più che altro per come si è girato con l'uomo di vicino la palla gli arriva e lui di prima intenzione calza però non riesce a centrare la porta andiamo avanti vai Gianluca la Sampa adesso a farsi avanti ancora Barreto che però si fa chiudere in fallo laterale no sono preoccupato perché sei squadre con una partita e meno un macello non riesci mai a capire la classifica reale com'è vabbè ce ne faremo una ragione dai tre punti a tutti mettiamo un po' di asterischi qua e là gioco è fermo intanto c'è una rimessa laterale per la Sampdoria che sta per essere battuta calma ravvicinata e poi Sampdoria che cerca di giocare la palla a terra ma non è facile arriva ancora Barreto comunque a difenderla spera nel fallo riesce a farla passare intelligentemente e poi viene lanciato ancora Defrello un po' impossibile arrivarci recupera Casatiero la dà sui piedi di oh 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 Pina palla che la recupera vediamo se riesce a recuperarla all'anima ma viene attaccato e qui ci serve per un limone torniamo tra poco rieccoci non è successo molto riparte ora la Sampdoria con una rimessa laterale vai Gianluca si pallone che però recupera per un attimo adesso la recupera Milaic che scarica dietro ma c'è un offside di rientro da Milaic sta qua altro che il diluvio di Torino ma che sì ho capito ma sta gocciolando ma siamo solo alla mezz'ora è la tensione ma scusami però allarga il poro se il discorso se il discorso di Viteria era il Napoli prende sempre gol ma il Napoli rimonta sempre il discorso di Viteria e che ci fa ancora qua questo è il discorso di Viteria Mimo stai tranquillo che ti danno il rigore come ah il rigore va bene vediamo se se si realizza anche questa profezia prego Napoli attacca sì Giavara allarga la palla tutta a destra c'è il commissario Basettoni che arresta gli avversari sovrapposizione incredibile Ulc Verdi Verdi guarda in mezzo cerca subito Giavara che non riesce a stoppare ma riesce comunque a servire lo Zara adesso la palla sulla sinistra la prova mamma mia cosa si è mangiato immobile ragazzi ve lo devo dire l'Unic mette una palla il Sassuolo Boateng Boateng pareggia i conti Boateng naturalmente Boateng che trafigge con un raso terra il portiere avversario azzarderei un'onda quindi torna la parità tra Sassuolo e Genoa mentre c'è un calcio di rinvio della Sampdoria vai si è pronto a rimettere il pallone in gioco Audero aspetta ovviamente che tutti i suoi si allontanino dall'area per avere anche più possibilità poi di giocarla bravo Quagliarella attenzione Saponara Saponara e cerca di farla filtrare non gli riesce da tre quarti però è il primo ancora ad inseguirla a riprenderla buon gioco questa volta di Saponara e poi pallone ancora sulla fascia attenzione cross basso ancora rischio di un raddoppio della Sampdoria Raddoppio ancora di De Frel però c'è una mediazione ma viene assegnato De Frel questo qua siamo alla mezz'ora finora in Napoli non ci ha capito niente di questa di questa partita c'è il raddoppio della Samp sempre De Frel l'onda Greguardo allora c'è una palla sulla destra che viene lavorata da l'attaccante non ho visto chi fosse la palla di Beresinski la palla di Beresinski la prende Quagliarella e la gira Beresinski da questa posizione mette una palla in mezzo Quagliarella la serve poi a sua volta a De Frel che batte per la seconda volta Quagliarella intelligentissimo Ospina l'avrebbe presa gli arrivava in parte ragazzi Quagliarella intelligentissimo perché capisce sente la pressione dietro con la che fa il movimento da una parte ne manda fuori uno e dà la palla a De Frel Quagliarella lo voglio all'Inter anche a 42 anni beh giocatore di qualità tra l'altro vi segnalo anche che la Lazio sta macinando una serie infinita di azioni una clamorosa la sbagliata Ciro Immobile ma ancora Milinkovic è andato vicino al gol e ancora adesso la Lazio che attacca colpo di testa sul calcio d'angolo però viene parato sembrerebbe insomma tutto far pensare al vantaggio della squadra di Simone Inzaghi attenzione però ancora alla Samp però se posso dire a furia di correre rischi il Napoli prima o poi si accapotta sì perché in effetti la Samp ha l'idea di poterla perdere recupera va a prendere la bambola nel primo tempo con la Lazio e poi recupera prende la bambola con Milan e poi riesce a recuperare che è una roba che riesce una volta ogni 25 anni adesso è già sotto un guazzino però sappiamo se vuoi fare il fenomeno perché vuoi fare il fenomeno insigne ma dico io ma giocala sta palla ma è roba la passa guardate ve lo racconto quello che è successo perché praticamente c'è una palla dicevamo che la partita è strutturata così ditemi se sbaglio la Samp gioca sempre la palla anche dai difensori ma il pubblico è rimasto sugli spalti a Torino il pubblico 2-1 Sassuolo 2-1 Sassuolo quindi la ribalta il Sassuolo Sassuolo gioca a calcio il Sassuolo Lirola 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 porta in vantaggio il Sassuolo intanto ci sono in testa Juventus e Sassuolo Gianluca Sassuolentus Cristiantus e Sassuolentus vediamo l'onda Allora sta succedendo di tutto Sassuolo a 7 punti Juventus dicevamo che la Sampdoria gioca spesso la palla e questo porta il Napoli a pressare alto nella speranza di recuperare la palla lì e a volte riesce però così si espone anche a contropiede sbaglia infatti la difesa della Samp arriva questa palla insigne insigne cosa fa anziché giocarla prova un tiro ma viene una mozzarella c'è una motiva fuga 2 a Udero era molto fuori insigne voleva fare il pallonetto la presa madre fuga 2 Juventus Sassuolo come quando nel giro in Italia vanno in fuga 2 e quando c'è la ripresa c'è il derby Juventus Sassuolo a Villar Perosa fanno la partita in famiglia ci stanno prendendo in giro però scusa se la Juventus ormai si deve chiamare Cristiantus perché il giocatore è ben più grande della squadra il Sassuolo potrebbe chiamarsi Juventus va bene lasciamo stare restiamo invece il conduttore non dice niente a questo no non dice niente il conduttore non dice niente è una tradizione contro la Juventus va bene pensati tu se non dici niente tu io penso che le lasciamo passare allora vanno bene e allora arrabbiati se mi arrabbio mi arrabbio non mi viene nessuno una volta che hai parlato è offeso Ancelotti anche se fa sette equivoco Cesare non ti curare di loro ma guarda e passa andiamo sulla partita prego Gianluca ancora la Sassuolo adesso io sono bagnato come Mazzarri perché è un continuo ma sono lacrime anche o solo sudore tutto lacrime e sangue è la luce del faro che punta troppo su di lui Mimmo io ti controllo ma c'è stato un infortunio è il suo saponara si non ce la fa più ho toccato duro ed entra Gaston Ramirez ed entra molto fortunato devo dire Gaston che sta per entrare in campo su queste battute va bene e ancora non ho cominciato con Linetti contrasto con Allan no con Diavara ha messo male il piede nella caduta esatto riparte ancora la Samp però attenzione si ma il Napoli prima o poi si deve riorganizzare invece batti e ribatti devo dire che mi piace da morire veramente anche il gioco di Quagliarella per la squadra anche qui stavano combinando bene esci Pippone esci 3 del Sassuolo Babacar 3 a 1 del Sassuolo sul Genoa che si era portato in vantaggio poi la forca reazione noi abbiamo perso su rigore dei padroni vabbè però fai la misura sul Genoa lo so ma il Sassuolo in casa è forte però questa squadra scatenata in questo avvio perdonami un gol molto bello nel senso che Boateng ha fatto una rovesciata pazzesca impegnando il portiere sulla ribattuta il più lesto di tutti è e il Kuma Babacar c'è da dire che Marchetti nei due gol fatti adesso dall'Irola e Babacar secondo me c'ha le sue cose un po' di riscosa vita ce l'ha Onda e allora questo Kevin Prince Boateng sta trascinando il Sassuolo intanto il gioco è fermo tra Samp e Napoli c'è una rimessa laterale ma è ancora una volta per la Sampdoria che tutto sommato anche dal punto di vista del possesso palla e delle ripartenze sta tenendo testa un Napoli che provoca delle vampate di caldo a Mimbo Pesce una roba allucinante però ragazzi bisogna dire che ancora una volta il campo di Genova è ostico si però anche Ancelotti fa fatica a tutti ci aspettavamo qualcosina di meglio dopo due partenze brutte in gare di A anche questa non è cambiato nulla non ha migliorato nulla c'è l'Ordine Franco Ordine il dottor Ordine ha detto che Ancelotti la deve immettere con questo discorso che perde 2 a 0 e poi perché è all'Ordine all'Ordine finché arriva l'Ordine l'ha detto Ordine che tu l'hai lasciato passare così pensavo a San Lupo all'Ordine è la stessa cosa ma no anche loro dicono per abitudine all'Ordine all'Ordine la gente normale dice all'Ordine con Juventino all'Ordine si un attimo però perché c'è un calcio d'angolo me lo dite dopo Connor per la San attenzione perché qui Claudio bisogna stare attenti perché è Sampdoria che sta mettendo veramente lì adesso il Napoli attenzione palletattiva colpo di testa mamma mia che rischio anche qua se la palla posso passare Pompiglio ha taroccato quello che ha detto Franco perché Franco ha detto deve smettere di prendere rischi in difesa il Napoli e invece Pompiglio dice dichiarazione contro Ancelotti quella azione di Napoli non riesce il passaggio di ritorno ma là nemmeno qua ha fatto tutto bene Napoli in contropiede ma poi Milic non è riuscito a difendere il pallone attenzione alla San però Barreto gira di prima che bravo Quagliarella ridagliela poi a Quagliarella ma l'Inetti ha sbagliato numero lì c'era 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 prima stanno correndo tantissimo qui il punto è riusciranno a tenere questo ritmo per 90 minuti perché fallo di Barreto gran giocata di Allan Milinkovic vicinissimo al gol ancora Milinkovic ancora vicino al gol in Lazio Frosinone ma non è stregata per il momento la partita ha ammonito Gaston Ramirez per questo fallo palla c'è palla non c'è e il giocatore giusto ha andato a tranciare poi alla fine la gamba ragazzi se non è giusta questa spolizione di Allan sacrosanto il limone prego vai Mimmo sveglia ci prova adesso al Napoli ma non c'ha praticamente insomma il concetto è che li ha inseriti ma deve rimettere immediatamente sia cos'è cos'è che il capitano Amsic eh l'avevi detto tu che non vanno bene veramente non vanno bene non vanno bene perché non c'è il mio preferito e lui beh è giusto fa di ruota ha fatto ha fatto il tentativo Verdi Verdi vediamo cosa fa allarga tutto a destra dove la mette a terra è sinistra quella a sinistra scusate per segnare saldo un cross da pippone perché non c'era in mezzo nessuno la mette a terra allarga tutta a destra allarga tutta a destra dove c'è ancora Iusai commissario Basettoni cerca subito l'incredibile Hulk Verdi Verdi all'anema prova da sotto scolà bravo hai detto bene scolà però resta lì Napoli dai ancora incredibile Hulk prova l'ennesimo cross la palla viene toccata si alza la campanile tocca ragazzi ma che bravo che è Quagliarella anche nella gestione del pallone è ancora Napoli dai il Biolchi addirittura si rifugia tra i piedi di oh oh Pino mamma mia come si è ammessi male come si è ammessi male vergogna perché si sono fermati tutti invece no niente perché si stavano piazzando perché la palla è ferma tra i piedi del portiere tutti fermi stanno perdendo 2 a 0 il più vicino era 30 metri vediamo ancora il Napoli dai Claudio hai centrato il punto bravo effetti non c'è non c'è cazzimma non c'è gara non c'è niente mi hai tolto le parole di bocca vai esatto attenzione adesso ancora sulla destra è ancora lui l'incredibile Hulk Verdi limite dell'aria arriva la sovrapposizione sbaglia il Zai difesa della Sampa che riesce a reagire guardate che brava mamma mia Quagliarella sposta la palla la tiene sempre in cassaforte non la perde mai lui e si appoggia sempre al compagno più vicino e poi Sampdoria che guadagna una rimessa laterale un po' preoccupato Carletto sopracciglio in fase di le valore ma c'è stata smettila smettila i tuoi fatti personali smettila va bene va bene lasciamo stare Ancelotti poi per i processi c'è sempre tempo intanto parte la Samp rimessa sulla sinistra lunghissima la rimessa ancora cercare il duo De Frel Quagliarella questa volta pallone che è stato recuperato interrompo solo un attimo perché c'è un calcio di punizione interessante per il Cagliari Barella prova a battere ma nel frattempo quarto gol del Sassuolo ancora Babacar quindi scatenato l'attacco del Sassuolo doppietta di Babacar gol di Kevin Prince Boateng e a completare l'opera anche Lirola Napoli autorete in realtà sul tiro di Babacar c'è una deviazione onda praticamente da un passo Babacar calcia debolmente e gol del Cagliari anche su quella punizione che non ci hanno mostrato è arrivata l'autorete dell'Atalanta punizione di Barella saltano in mezzo all'aria e Pasalic che devia la palla nella propria porta onda vediamo allora la classifica perché il Cagliari sta vincendo a Bergamo e aggancia l'Atalanta a 4 punti Napoli che è sotto 2 a 0 con la Sampdoria la attenzione attenzione una palla ancora in mezzo e va a chiudere molto bene qui Castorramiere da mezzo in mezzo ha chiuso bene Culipali però devo dire una cosa non sembra una squadra di Ancelotti questa nel senso che concedere così tanto quello che sto vedendo c'è una differenza di corsa vanno il doppio quelli della Sampdoria il Napoli sta arrancando a livello allora guarda secondo me il problema di fondo del Napoli è questo Fa è troppo davanti nel pressing è troppo davanti e c'ha lascia alle spalle una prateria di 30-40 metri il problema non è di corsa è che il Napoli gioca nel traffico con tutta la metà campo d'Oriana intasata la Sampdoria gioca in campo aperto in campo libero ecco il corner vai Gaston Ramirez su secondo palo azzarda poi Quagliarella un tentativo difficile riparte attenzione attenzione poi Napoli che prova a ripartire ma la palla è ancora della Sampa attenzione ancora il pallone messo in mezzo ancora poi l'Inetti all'indietro Sampdoria sulla tre quarti ancora Echdalla sempre centralmente Gaston Ramirez che esce e poi il pallone ancora in avanti sopralluogo a Torino allora le 21.35 ci sarà un sopralluogo dell'arbitro vi ricordate prima avevo detto che poteva anche temporeggiare effettivamente così vediamo cosa deciderà poi ecco perché il pubblico è rimasto lì quindi potrebbe ancora riprendere la gara del Torino qualora smettesse quantomeno di diluviare così come abbiamo visto sì sì prova ma due di recupero 40 secondi francamente quello che ha fatto in segne incomprensibili nel senso non era un tiro non era un cross è finita direttamente gioco fermo linea sugli altri campi se ne è già andato un minuto dei due di recupero concessi ora la Samp se la prende comodissima e a Uderos è intelligente sto minuto qua lo fa trascurre con tutta calma direi che prende esempio da Ramirez che si addirittura ha allacciato le scarpe prima di battere il calcio d'angolo stai calmo facendo vedere che probabilmente il tiro di Babacar sarebbe uscito uscito palesemente se non fosse per il difensore del Genoa Spogli che se la porta praticamente da solo con la palla e se l'è portata in porta prego vai Napoli dai Mimo dai Verdi 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 Prova un cross dove non perché ha sbagliato il difensore si hanno sbagliato tutti i cross Verdi Lorenzi Lorenzi in segne scarica su Ruio il bersagliere Sardo gli viene vicino lo zar che chiede palla gliela dà prova a cambiare il gioco ancora sulla destra la metà a terra adesso il commissario Bazzettoni l'infilata in mezzo a cercare Alana Mechita ancora Verdi prova al tiro di prima intenzione si infrange sulle gambe dei difensioni della Samp Edoria Albiol Cuba Libre e manca 4 secondi è finita dai finito 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 il primo tempo clamoroso 2-0 della Samp con doppietta di De Frel Napoli che ancora una volta sbaglia l'approccio alla partita stavolta però è doppio lo svantaggio come col Milan vediamo se riuscirà nel secondo tempo a reagire Mimmo cosa ti aspetta? vince 3-2 Napoli vince 3-2 Napoli si aspetta cambi subito subito lo farà sicuramente era partito così bene il Napoli una telefonatina a Sarri ci sta adesso ma io credo che Sarri abbia lasciato un buon ricordo e il calcio di Sarri noi non lo vedremo più a Napoli questa è la verità ma se lo hai attaccato tutto l'anno scorso e quindi dovremmo farcene una ragione lo hai attaccato tutto l'anno se finisce così scusa per 14 giorni quel bel avvoltoio di Conte volteggia su Ancelotti e di Francesco e come no ogni settimana a Cattuso e Spalletti andava bene e invece di Francesco e di Francesco lo hai attaccato tutto l'anno scorso Mimmo Sarri lo hai attaccato tutto l'anno scorso no ma mai volteggia ma veramente tiriamo fuori i VHS ma che dici Mauro ma tiriamo fuori i VHS ma tiriamo i VHS comunque se Sarri non cambiava mai la formazione Ancelotti forse questa volta qua l'ha cambiata troppo perché comunque non può lasciare fuori Caione Anzi ma non può mai dire vorrei capire dal punto che non devi buoni per favore Reina difendeva voglio capire una cosa se dal punto di vista milanese le difficoltà di Napoli e Roma vi incoraggiano ti rispondo subito sono molto resta il fatto che noi dovevamo fare nove punti abbiamo avuto un calendario più facile di altri ma è chiaro che per i miei psicolabili quelli che vanno in campo con la maglia nera azzurra ai giocatori sì secondo me è molto meglio vedere la Roma e il Napoli nei pressi piuttosto che se fossero state già a nove poi ovviamente devi calcolare adesso non sto facendo l'ironia te lo dico prima siccome siccome il Milan ha una partita da recuperare che sulla carta è da considerare abbastanza semplice tu mentalmente devi immaginare che il Milan in questo momento ti è davanti è come virtualmente a sei punti virtualmente il Milan è a sei vedere il Napoli a sei il Milan virtualmente a sei ma questo è una fase preventiva la Roma a quattro per te che sei partito ribadisco malissimo secondo me è meglio stop Mauro dal punto di vista rosso nero invece ma aspettiamo la fine della partita intanto di Genova è chiaro che quando Giampaolo inizia a incartartele così le partite poi diventano difficili da diventano difficili da recuperare a me resta questo questo tarlo che per carità di Dio era giusto rinviare Milan Genoa a Genoa non poteva giocare il giorno dopo il lutto nazionale mancherebbe altro però se fossimo andati a Napoli avendo avuto una partita di rodaggio e di conoscenza di noi stessi nelle gambe quella parita lì non la perdiamo mai Carluzzo non ha le perizioni stai zitto devi stare zitto non parlare di Ancelotti non devi parlare di Ancelotti invece ha permesso di siccome oggi ce l'ha con Ancelotti non devi lasciare stare mi interessa anche il pensiero di Pompiglio su Ancelotti invece te l'aspettavi una partenza così di Carletto ma Carletto deve vincere tutte le partite ma in malafere no 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 perché tutte perché perché l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso Sardegna ne ha perse tre e Carluzzo non ne può perdere quello che si chiama Carlo Ancelotti nessuno lo chiama Carluzzo Carluzzo lo chiamavamo noi quando era nostro allenatore è stato nostro allenatore ma chi l'ha chiamato Carluzzo ma non è vero Juventinazzo sono tutti della Sicilia questo qua è un personaggio no 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 dai allora buoni 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 Ancelotti ha vinto due cerchio slick con il e la luna con Real Madrid ha vinto a Parigi ha vinto a Londra arriva questo va bene buoni quello è uno striscione buoni Cesare ha citato uno striscione che venne fatto dai tifosi della Juventus vergognoso vergognoso direi che la storia lo ha cancellato e invece questo signore lo esibisce come il suo soffeticcio con il suo trofeo ti devi vergognare va bene è stato nostro allenatore è stato nostro allenatore fermi lì buoni si chiama Re Carlo no si chiama Re Carlo si chiama Carluzzo va bene fermi lì buoni allora stavo dicendo vediamo un attimo la classifica però come si configura perché questo Sassuolo ha sette punti è uguale che la spada è l'anti Juve che poi in realtà essendo una costola è come se girano insieme lì quelli di quella macchina che non vince mai perché lì arrivano secondi perché manca l'arbitro in Formula 1 no smettila come si chiama lì Fiorentina-Napoli sparsa i punti stiamo a vedere quello che succede anche al campo di Torino cosa c'è? il campionato dopo il mondiale non è mai è sempre strano guarda la classifica è strano per il mondiale però dopo il mondiale il nostro campionato chissà perché rimane sempre un po' così strano storicamente no ha ragione però si dice sempre i giocatori dopo il mondiale si dicono una serie di indicate l'ho detta perché mi è venuta in mente però il mondiale ma non l'abbiamo fatto al mondiale ma non c'entra l'Italia siamo pieni di i giocatori che hanno fatto il mondiale se la Croazia non fosse andata in finale l'Inter a Sassuolo avrebbe giocato con Ferro se mia nonna non fosse morta fermi lì un attimo voglio capire una cosa però Buoni visto che hai sollevato il tema e lui subito ha pensato ai croati Brozovic che fine ha fatto? Brozovic è ancora dei resti del mondiale e ritornerà in forma e farà vedere quello che ha fatto vedere l'anno scorso è chiaro che io mi devo fidare perché non ho alternative bravo bravo Bettino ci dobbiamo non vorrei che finisse così aumenterebbe il rammarico c'è? eh eh che cosa? ma cosa? ci hanno rimontato se finisce 2 a 0 mi dà un po' fastidio il capito cioè tu dici la Samp non si fa rimontare però la Samp è in casa e il Mina ha giocato in trasporto proprio la cavolata cioè non mi può dar fastidio adesso stanno cercando di buttare la trasmissione sul rutto libero no Pirla gli dai l'assist ma cosa? sono due parite diverse ma c'entra mi dà un po' fastidio però lo finisce così sai cosa mi dà fastidio a me? c'è il rigore sai cosa dà fastidio a me? che sono quasi cioè quindi tu ti ferai Napoli in questo secondo cioè tu dici che quando vinci 2 a 0 non ti devi far rimontare no esatto hai capito? ti dà la lezione lui hai capito? se la spugna ti dà la lezione il fenomeno che col Torino in casa vinceva 2 a 0 e si è fatto rimontare e ringrazia che non ha perso ma perderla addirittura e ringrazia che non ha perso che meritava anche di perdere certo però c'è sempre un però te l'ho sempre detto è un campionato strano e poi comunque ti sto dicendo non finirà così c'è il rigorino va bene volevo capire anche da Andrea sono le scelte di Ancelotti che ha lasciato fuori i due titolari oppure no non pesano molto ma credo che lo vedremo molto spesso quest'anno di far ruotare la rosa quindi sono scelte che Ancelotti farà si vedranno ancora e più che altro secondo me è una condizione psicologica in questo momento che sono probabilmente forse un po' bloccati e la vedo più come approccio la partita perché è un problema che si si ripropone si ripete già da due giornate quindi vuol dire che secondo me c'è qualcosa che non va nell'approccio alla partita perché non puoi regalare 60 minuti tutte le domeniche intanto stavo vedendo possesso palla a favore del Napoli con però 17 palle perse dal Napoli è una cosa strana nel senso che eravamo abituati a vedere il Napoli sbagliare molto poco dal punto di vista del palleggio Mimmo ma io sono profondamente deluso non non mi aspettavo sapevo che era difficile ovviamente con la Sampdoria perché non ti regala nulla però in effetti quello che dicevano un attimo fa mi trova d'accordo cioè non puoi fare gli stessi errori per tre volte consecutivamente vuol dire che c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va e non è mica detto come diceva giustamente Franco che tutte le volte poi ti va bene il colpo di recuperarla cosa che stasera prevedo perché non vedo perché con il Milan è vero che perdavamo però comunque la squadra era lì qualche tiro in porta l'ha fatto qui non ha fatto niente ma proprio nulla quindi la vedo un po' già andata sta partita entra un altro Napoli secondo te va bene vedremo come ho visto che sta scaldando Mertens credo che faccia giocare Mertens al posto di Verdi Verdi devo dire è molto deludente si è impegnato molto dal punto di vista dell'approccio è rientrato spesso a centrocampo però poi sì ma provarlo a Genova è un po' un po' l'azzardo è un tema provano in casa provano in casa ci sarà una partita più abbordabile dove praticamente è stata un po' più spianata vai a Genova e giochi sempre in questo però devo dire che le difficoltà che ha avuto il Napoli magari ti inducono anche a pensare qualcosa devo provare perché manca qualità quando mancano Caglione e Amsi che togli qualità no con le partite precedenti ah ok perché avevi Amsi che non girava prima si discuteva sui palloni persi la motivazione è molto semplice la Sampdoria corre molto di più e quindi ti induce a fare più errori e secondo ti manca qualità questo è il perché perdi tanti palloni adesso vedremo se ci saranno delle sostituzioni Mertens può essere sicuramente una mossa dobbiamo fermare no non ancora allora vorrei capire anche però sulla post Inter perché c'è molta preoccupazione per l'Argentina che ha convocato Icardi e Lautaro Martinez ti aspetti che tornino entrambi tutte e due andranno in Argentina si faranno visitare Icardi dovrebbe ritornare praticamente scende dall'aereo va dal dottore e dovrebbe ritornare subito Lautaro Martinez c'è il rischio che possa giocare qualche minuto e Spalletti è stato chiaro attenzione che se gioca qualche minuto rischia di farsi male adesso come dicevamo prima dipende tutto dalla forza tra virgolette politica dell'Inter che dovrà sentire i medici argentini e dire signori guardate che siamo inizio stagione stiamo parlando di due amichevoli lasciamoli tranquilli fatele ritornare perché hanno bisogno di curarsi invece volevo capire se alla ripresa potremmo vedere Cutrone titolare nel Milan in che senso Cutrone titolare nell'11 già perché Gattuso ha detto meriterebbe qualcosa in più meriterebbe più spazio tanto giocherà giocherà l'Europa League io non credo che possa cambiare in questo momento non ho capito la domanda no pensavo magari in coppia con Higuain no non si può vedere non so in coppia con Higuain una punta poi per sostituirla non l'abbiamo noi siamo costruiti per il 4-3-3 non per il 4-4-2 sì dico in partenza uno può anche avere un'idea poi magari Suso non va cerca qualche a partita in corso a partita in corso e in determinate circostanze va bene dobbiamo fermarci un attimo pubblicità poi riprenderemo anche questo tema è in corso a Torino il consulto sul campo tra l'arbitro e i capitani per decidere se continuare Torino-Spal oppure rinviarla definitivamente credo si stia consultando anche con i varisti perché vedo che sta dicendo qualcosa in cuffia la palla rimbalza in certe zone in altre un po' meno allora penso che non è ancora rientrato neanche il Napoli andiamo ancora un attimo in pubblicità e poi torniamo tra poco vantaggio della Lazio con Luis Alberto dopo un batti e ribatti quindi Lazio 1 Frosinone 0 Inzaghi esulta evidentemente tra le tensioni nervose più la partita come stava andando sembrava stregata si libera si dovrebbe rientrare in campo invece in Torino-Spal perché abbiamo visto i giocatori togliersi le tute vari pronti a rientrare mentre doppio cambio nel Napoli si doppio cambio esce bocciato Verdi entra Ananas Unas e entra anche Drin Drin Mertens Mertens al posto di chi? al posto di chi? non l'abbiamo ancora capito come? no non l'hanno fatto vedere va bene forse in 12 per cercare di rimontare vediamo cosa succede intanto appena sapete chi è uscito ci è avvisato ha incentrato perfettamente la bandierina quelli della Sampdoria al primo lancio questi sono i segnali da quali capisci che la partita è segnata insigne quando qualcuno colpisce la bandierina basta è uscito insigne fuori insigne e insigne Urca questa è una decisione è importante pesante pesante anche nell'ottica ma credo che abbia preso un colpo insigne eh? credo abbia preso un colpo credo in panchina gli è venuta fuori una parolaccia anche brutta eh ma ci credo che non posso ricevere anche Ancelotti dice le parolacce va bene vediamo la partita però il Napoli vediamo se cambia atteggiamento si riparte il Napoli proviamo sulla destra adesso il commissario Bazzettoni Usai che parte sulla destra subra adesso la metà campo lascia la palla sui piedi di Ananassa Ananassa converge verso il centro cerca subito la Drin Cuba Libre Javara Javara sinistra dove c'è Ruio il bersagliere sardo prova centralmente libera la difesa però della Samp recupera però ancora il Napoli c'è un fallo 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 intanto occasione per l'Atalanta col Papu Gomez tiro a giro parato molto nervoso Allan non so se ce l'avesse con i compagni o con l'arbitro l'arbitro per il fallo che ha fischiato va bene riparte la Samp dai Gianluca si il pallone ancora in linea difensiva Samp 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 che adesso ovviamente non potrà aspettare tutto il tempo cercando di tenere la palla dovrà in qualche modo continuare a giocare come ha fatto nel primo affidandosi all'ampiezza le ripartenze che il Napoli soffre ancora il pallone adesso sulla sinistra attenzione qua rimessa laterale in attacco guadagnata e già battuta e quindi si continua sulla destra attenzione altra rimessa laterale Samp malgrado protesti il Napoli e quindi si ricontinuerà adesso con Beresinski pronto alla lunga rimessa attenzione ancora al tentativo mamma mia di Quagliarella di liberarsi e poi colpo di tacco intelligente il Napoli in difficoltà se non sbaglio passare la palla sotto le gambe di Usai ma cosa ha fatto Albiol lento 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 incredibile va bene per ora non sembrano sono passati solo due minuti però non mi parla comunque si capisce al volo quando la squadra cambia registro non mi pare che abbia avuto effetto vediamo Vito cosa dici attenzione ancora Samp ottima l'impetenza bravo Barreto pallone che date frella ritorna poi centralmente guarda che varchi che spazio sbagliata stavolta questa palla lunga sì sì però attenzione perché quello che sorprende sono gli spazi di campo concessi dal Napoli Vito sì ha tanto campo adesso secondo me il Napoli è più difficile rimontare questa questa partita qua ma non la rimonta secondo me perché non non ci sta capendo dentro niente non ha punti di riferimento vediamo se ce la fanno dai Mimmo forza si battuto adesso cerca subito Ruio il bersagliere sardo cambia gioco tutto a sinistra Ananas scarica su il commissario a destra ti spiego questa è la destra e questa è la sinistra quella con cui scrivi la destra vai lo so no io no ricomincia da dietro ma non riusciamo neanche uscire perché siamo pressati subito sulla ripartenza in centrale Javara ceca lo Zaro anzi no drivin prova Ananas subito pressing sfissiante al Biol cambia gioco lancia lungo 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 a cercare lo Zaro di testa di testa in fallo laterale si abbiamo visto ha spostato Milica a sinistra ha spostato Milica a sinistra e Mertens fa il centrale ancora Napoli dai inimo Mario Ruiu attenzione adesso è lo Zaro scarica su trin Mario Ruiu lo Zaro in mezzo colpo di testa di Milaic Armaduc lo possiamo considerare un segno confortante tiro verso lo specchio della porta non irresistibile non credo io vedo Napoli un po' arrugginito anche sarà la Salsedina non lo so può essere può essere non lo vedo va bene ancora Sampero attenzione ancora recupera Giavara che allarga sulla destra la destra con mamma mia aiuta il comissario Basettoni ha preso un rischio grosso grosso allarga tutta a sinistra lo Zaro che si è visto praticamente nullo nel secondo primo tempo adesso forse la posizione lo avvantaggia un po' Alana tiene la palla scarica su Giavara allarga ancora su Ananas 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 gol mamma mia mamma mia c'era quasi un autorete è sì è sì veramente una carambola avete sentito Pesce gridare al gol perché c'è stato mamma mia una palla messa al centro da questa parte e un difensore della Samp mi è parso toccarla quasi la spedisce verso la propria porta aspetta che c'è un controllo VAR c'è un controllo VAR potrebbe essere no 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 l'ambito dice di no niente corner vai battuto Alana ma prova dal limite dell'aria passa di pochissimo non proprio saranno sette metri no va bene anche però sette metri mi sono un po' troppo il tiro era alto non era però neanche diciamo a fil di traversa un po' alto di Allan ah chiedevano il tocco di mano forse però non sì sì perché Odero va vuoto Odero l'ha bucata completamente non capisco perché è uscito a Landa vero? no no allora scusate devo capire chi è allora un giocatore che è uscito chi sono uscite? è uscito Insigne e Verdi allora credo che sia Insigne è stato punto non sto scherzando stanno raccontando da una Vespa ha avuto una reazione allergica e adesso è sotto controllo però non riesco a capire se o Insigne o là adesso te lo dico o Verdi va bene adesso lo scopriremo sono le Vespe ma chiudiamola qua stavate ma pure le Vespe ci si mettono scusami si può giocare con le Vespe sono l'ombrette sì ma le Vespe posto di mare va bene diciamo un altro luogo comune prego vai Mimmo attacca a Napoli dalla marcatura cerca l'infilata in mezzo per Mila che alza la testa prova a convergere si gira la prova sul sinistro da fuori aria batti e ribatti mamma mia batti e ribatti si piega mamma mia che significa si piega anche quello la buttate fuori o no? aspettiamo Sanremo lo mandiamo lo vieni a prendere tu Mimmo questo qua è una reazione però scusate un pochino di inerzia mi sembra cambiato adesso mi pare che sia cambiato però è una reazione più di nervi che di testa il corner per il Napoli si battuto la palla sui piedi di Drin la mette in mezzo la butta fuori la difesa ma riesce a ripartire sulla Sampo attenzione Castor Ramirez non passi con Alana Mechit Lozar sulla sinistra davanti l'avversario prova centralmente a cercare ancora Alana Mechit Javara Javara finta di corpo la larga sulla sinistra Drin 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 Niente tiro a giro largo sul secondo palo di Mertens però è un altro Napoli devo dire che Allan sta assumendo il controllo del centrocampo in questo momento e infatti il Napoli di conseguenza è imprescindibile da alcuni giocatori uno fra questi è sicuramente Mertens e noi ci giriamo intorno Verdi è stato l'esperimento l'abbiamo fatto basta ora se ne sta in partita è una reazione in una panchina per una ventina di partite fino alla fine del campionato non gioca più e l'abbiamo provato l'abbiamo provato non funziona non va va bene 5 minuti riparte la Santa mentre a Torino bucano l'area come aveva ipotizzato qualcuno qui in studio per cercare di far drenare il buon Bettino profeta la zona messa a peggio per il resto il campo sembrava tutto sommato rimbalzare bene nel resto del campo erano le aree che davano un po' più di problemi vai gioco interrotto pubblicità torniamo gol del Sassuolo gol del Sassuolo 5 a 1 ha segnato Ferrari con un colpo di testa sul calcio d'angolo travolto il Genoa per qualche riguardo invece questa azione del Napoli scusate c'è una rinfilata in mezzo di Usai che però strattona a sentire l'arbitro ma cade da solo il giocatore della Sampdoria quindi vabbè non c'è molto comunque il portiere l'aveva preso diciamo che non c'era molto da una parte o dall'altra un lieve tocco col braccio sulla spalla di Uro che è già in caduta Ballardini 5 pere col Sassuolo già vabbè Conte pronto anche per il Genoa no lì non va Donadoni va bene andiamo in cronaca forza la Sampdoria sì che prova adesso butta ma adesso un altro Napoli ragazzi questo ve lo devo dire dai Mimo è solo Zarlo Zà che conquista una bella palla la allarga tutta a destra c'è Ananas che la mette a terra Ananas Burtuola Ananas cerca la sovrapposizione mi like mi like cerca il tiro in mezzo al volo buono mamma mia potrebbe essere bello però scusami è più l'illusione che ti sei fatto tu vabbè ma la palla è andata no ma l'ha presa una della Sampdoria tant'è che a Udero per evitare il calcio d'angolo si è avventurato fuori e adesso Gian Paolo cambia qualcosa perché capisce che il nostro opinionista nella Sampdoria Salai io pensavo arretrasse un po' ma perché Murru sta soffrendo molto un'asse è vero è vero è vero si qua anche Murru esce con un'espressione come per dire oh ma mille via ma qua che sono tutti pazzi ma certo è famoso parente dell'attrice americana olivuriana chi? Marilyn Moore va bene è calato il gelo su questa ragazzi uno è andato faccio fatica faccio fatica a buttarla a palla in un'altra corner per il Napoli dai Mimo salvaci calcio d'angolo ancora Audero qua la combinata brutta certo Audero Audero stava facendo una bella festa Saponetta Saponetta meritiamo il pareggio meritiamo il pareggio come pareggio meritiamo il pareggio a due ne hanno fatto prego altro corner ancora a Ruglio il bersagliere Sato la mette in mezzo e questa volta però pallo allontanata il primo pallo proprio da Sala e adesso rimessa laterale con Carletto che dà una mano a recuperare il pallone in realtà la Lazio vicinissimo che ha avuto una chance molto importante con Acerbi colpo di testa fatto da Sponda poi è arrivato Acerbi ha scheggiato la traversa però però è andato alto di poco si prego ancora Napoli dai Mimò si alla Anna ma cerca subito Javara Javara Albiol Casatiello che stasera capitano allarga su Sbaglia l'appoggio di Sponda ha sfiorato il gol si con Petagna tiro a giro sul secondo palo fuori di poco si gioca quindi siamo al 21esimo del primo tempo in Torino Sponda allora Mimò allora svegliali un po' io credo credo che a questo punto il pareggio sarebbe veramente il risultato corretto Napoli adesso scusate sta giocando adesso sta giocando non è che Audero abbia fatto chissà che parate pallone ancora recuperato dalla Sampa che adesso ovviamente deve modificare attraverso Gianpaolo poi c'è anche la possibilità che ti giri storto per una volta perché adesso sugli ultimi due palloni che è girata storta tanto attenzione però se regali un tempo però se regali un tempo un antiparretto appunto che prova a mettere in movimento ancora De Frel che è un ira di Dio stasera mamma mia deve essere ammonito assolutamente fischiato fallo in attacco all'attaccante della Sampdoria Gregoire De Frel sì per la precisione va bene questo è il nome ci ha vestito la gloriosa maglia del Sassuolo no della Roma del Foggia De Frel sì certo mi mancava questo tassello nella storia di questa serata va bene parte ancora Napoli dai Mimmo sì è Cuba Libre adesso torna a fare pressing altissimo la Sampdoria la palla su opina no è una pippa questo è una pippa scusate ma noi ci hanno mandato via quel campione di Reina per prendere sta pippa come sbaglia pure le rimesse a Reina le dicevi di tutti i colori a Reina ma tu hai visto cosa ha fatto in un'espressione non particolarmente furba Mimmo sei scandaloso spieghiamo cosa ha fatto ha rinviato direttamente ha rinviato in pallo laterale sì però cioè senza pressione colpendo male è ovvio che ha colpito male il pallone diciamo che ha colpito male va bene parte Napoli dai dai questa cronaca Ananas furtual c'è davanti l'avversario lo salta di Bab bravissimo prova l'infinata bravo 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 non c'è paragone tra il rendimento di Onas e quello di Verdi è vero è vero è vero è un altro mondo Verdi ha fatto un primo tempo da gatta morta purtroppo mi è piaciuto zero dai Mimmo forza sì l'abbiamo provato basta adesso per 30 partite sta in panchina attacca a Napoli dai sulla sinistra il bersagliere Sardo gli viene incontro subito all'Anamek prova l'infinata ci proverà infatti e sbaglia sbaglia tutto dai Gianluca prova a ripartire attenzione serie di 1-2 tutto di prima molto bene partono davanti De Frelle Quagliarella attenzione spina di testa si è uscito dall'aria portiere a colpire di testa in tuffo praticamente è finito dai dai faccia sul campo dai allarghiamo sulla sinistra dove c'è ancora il bersagliere Sardo lascia la palla su Lozar 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 converge verso il centro prova là bravo là il velo drin drin non riesce la palla danza lì arriva Giavara prova al volo a tirare è un muro come un muro mamma mia c'è un pullman lì davanti e vabbè però così ragazzi non si può girare giocare allarghiamo con la sinistra dai che lo fai Rui un bersagliere Sardo la palla bella attesa l'avversario può ripartire la Samp attenzione Samp che però non riparte adesso prova a ripartire attenzione Quagliarella Quagliarella bravissimo a girare questa palla è bravo Quagliarella è bravo e poi va a prendere un fallo intelligente e Gaston in maniera anche un po' d'esperienza diciamo così questo calcio di punizione conquistato nel cerchio di centrocampo dalla Sampdoria che ha tutto l'interesse a far rifiatare la squadra anche nella ripartenza mi sembrava sai che se serve in profondità Quagliarella vanno ancora in porta Quagliarella è stata quella di una squadra che anche quando ha riconquistato la palla non volesse esporsi e giustamente 2 a 0 col Napoli fai bene anche a amministrare e gestire quando possibile vai sbagliare si sbagliare l'invio attenzione lontano si prova ma è troppo lontano era troppo lontano io ho conosciuto uno che da lì l'ha fatta si ma uno si Ibrahimovic no Maradona Maradona il gol adesso vediamo quello che è successo c'è stata una palla persa in difesa Bandev abbiamo visto bene l'onda gol al momento poco utile nel senso che accorcia solo a distanza del Genoa riparte il Napoli dai Mimmo forza ancora sulla destra la palla sui piedi Anas puntual sovrapposizione di quelli Usai la mette in mezzo fa scudo con il suo corpo adesso c'è tanto Napoli Barreto e recuperiamo un Crepio Enzo non va a battere ancora Ananassa ti senti il gol nell'aria aspetto ad andare in pubblicità no no vai vai adesso vai vai dai segui quest'azione abbi fiducia nella tua squadra ancora a ruio il bersagliere Sardo si ferma tutti gli spazi sono chiusi per quello che dico non lo so Anan gli viene incontro Milai Karmaduk protegge la palla dall'attacco dallo Zara fallo calcio di punizione calcio di punizione comunque Gario ti dico una cosa brevissima noi una cosa però in queste prime tre giornate su possiamo dirla quale? e che sto Napoli comunque anche per come stagione non ha niente della normalità di Ancelotti o è vero è questo che sorprende c'è qualcosa di strano in questo di solito Ancelotti più che qualcosa di strano mi sembra abbastanza spiegabile cioè non ancora hanno trovato una quadra e ma così con questi con il Napoli con Sarri era più sistematica la squadra più coerente come comunque non è che doveva ripartire da zero delle basi c'erano Belotti attenzione perché è a terra è a terra credo abbia preso ha una mannata in faccia o un pugno non lo so perché l'impazzatura è lontana da parte di un avversario e c'era il medico che gli faceva seguire il dito con lo sguardo però tra i problemi del Napoli di oggi c'è il telecronista che non trasmette emozioni? allora facciamo così diamogli un attimo Claudio attenzione perché no no valla fuori torniamo tra poco bentornati qui live a QSVS non è successo molto in questa interruzione nostra riparte il Napoli vai Mimmo e Cuba Libre l'appoggia sullo Zara che perde la palla Cuba Libre di impeto va a riprendersela la palla rimane lì batti e ribatti si alza c'è Coulibaly praticamente dietro gli attaccanti in questo momento nel Napoli sta provando un po' a spronare guidare i suoi anche in maniera geografica lo Zara salta un avversario però comunque rimpalla la Rui la mette in mezzo lo Zara si chiara aggiustarsela la perde perché è anticipato l'anticipo di Casatiello l'appoggia su Allanna che allarga sulla destra Ananas Purtuola entra in aria sempre chiuso si se la lunga male però stavolta ma la dipende che partita sta facendo Ananas è Audero con i piedi un giocatore che con Sarri non veniva considerato e non aveva fiducia con Ancelotti stiamo vedendo tra un asse verde in questa parita non c'è paragone si 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 entra anche Rog vediamo chi esce Giavara 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 chi entra l'infilata lo Zara non riesce batti e ribatti la palla rimane lì la recupera comunque la Samp e Doria vediamo se recuperiamo sta palla si butta tra le linee prova adesso si anche Zellisky stasera abbastanza in colore in difficoltà palla che può essere ora giocata dalla Sampdoria con tutta calma Empoli ha segnato l'Empoli ha segnato l'Empoli onda onda gol dell'Empoli quindi in vantaggio sul Chievo Verona che al momento è l'unica squadra ha zero punti in classifica prego vai Gianluca l'invio della Sampdoria ancora Udero ma in bocca Cullibali Cuba Libre Cuba Libre allarga tutta destra cerca la sponda la trova adesso comunque Rui il bersagliere sardo ancora Cuba Libre siamo pressati l'infilata a cercare in mezzo 5 metà campo all'Anne ma che allarga ancora sulla sinistra il bersagliere sardo supera adesso la metà campo non ha spazi si fa trovare che scarica su Cuba Libre Cuba Libre cerca ancora al Biol Casatielo cerca di superare vediamo se riesce la palla bravissima rischia rischia tantissimo adesso Ananas puntual usa il commissario Bazzettoni palla in mezzo la mette fuori finalmente si sta scaldando pesce devo dire si si l'ultimo 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 la darà sicuramente a Cuba Libre la palla grande l'ultimo oh Culliba e allarga sulla sinistra il bersagliere sardo all'Anne avanza di qualche metro l'allargerà sicuramente infatti corre sulla sinistra spalla pericolosa si ho visto anche un Sirigu non precisissimo sul tiro che non era pericoloso però se l'è lasciata un po' sfuggire dalle mani attenzione a Napoli grossi in mezzo però non ci arriva Guagliarella ancora preziosissima recuperare un pallone buono il velo attenzione perché scendolo due contro tre due contro tre uno dei frey uno dei frey cambiano la parte posta rischia a Napoli adesso pallone recuperato messo giù ancora lotta come un forsenato ed è fallo va a guadagnare il fallo lì in mezzo si è stato bravo qua credo fosse Gaston Ramirez a difendere la palla con le sue spalle larghe mentre la Lazio continua ad attaccare a sprombattuto contro ah era il frosinone ah il frosinone ok scusate allora c'è un'azione anche del del frosinone dall'altra parte altro cambio intanto non so se noi abbiamo anche una pubblicità da recuperare intraglianto adesso che il gioco è fermo mi dicono dalla regia di no allora restiamo in grado mi faccio dare anche qualche messaggio a Ancelotti non mangia il panettone questo è la previsione terza rimonta consecutiva del Napoli invece pronosticavano Mili che è un gatto di marmo non ne va bene uno il male del Napoli è culibali insomma c'era per tutti i gusti sì non vanno bene mai nessuno insomma almeno uno si va notare prego andiamo in cronaca c'è la ripresa del gioco a favore punizione per la Sanz siamo lontanissimi ma come importa quella pippa bisogna stare sempre su chi va là no attenzione barriera a 4 mamma mia Barreto Gaston Ramirez vediamo che cosa si inventa Gaston Ramirez uno schema brutto però la recupera attenzione non va bene e poi ancora la palla che gol che gol che ha fatto Quagliarella che gol che ha fatto io stravedo per Quagliarella che gol che ha fatto Quagliarella che gol che ha fatto Quagliarella questo doveva prenderlo l'Inter anche i tifosi increduli che gol ha fatto un gol che ricorda molto quello di Bettega e a San Silo con i tifosi che roba che ha fatto Quagliarella allora intanto mi segnalano che forse il gol del Lempoli è stato annullato per fuorigioco chiedo poi anche alla redazione di verificare c'è stato praticamente un'azione sulla destra un cross in mezzo e Quagliarella Beresinski Beresinski al volo quello di Bettega era una roba la sua terra questo al volo mi ricorda Mancini Parmalazzo Mancini Parmalazzo però era più vicino alla porta però era più vicino alla porta è bellissimo alla fine o Ibra forse Ibra Inter Bologna qualcosa Ibra Inter Bologna questo però secondo me più difficile di quelli che citate voi è giusto quello che dice Bettino a me sembra quello di Pastore però è molto più bello di quello di Pastore questo qui è sigla tv non mi interessa d'ora in poi qualsiasi sigla tv si mette questo Mimmo si bellissimo Mimmo Mimmo è finito l'avevamo detto prima insomma si era capito che è una partita Mimmo attenzione Mario Rui giallo giallo vediamo di non accumulare giallo tanto la partita è persa Mimmo però scusami 3 a 0 non una sconfitta e qua Conte devo dire che è andato via Pino Vaccaro col suo cavallo qui devo dire che adesso l'avvoltoio 6 gol subiti e l'avvoltoio a legge in tre partite scusate pesante pesante ma la fase difensiva del Napoli si è capito già dalle partite di questo agosto che è una fase difensiva che non ci siamo non ci siamo adesso c'è addirittura un calcio di punizione ancora per la Sampdoria Mimmo non piangere però dai no 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 assolutamente perché era mi ero già abituato all'idea quindi non mi sorprende che gol che ha fatto poi questo ha fatto un gol ma che roba è gol dell'ex vai attenzione infatti non ha gioito a parte che lui gioisce poco e poi fa un tiraccio brutto è una serata stor sì stor ancora messaggi da casa il Napoli è modesto come giocatore era Sarri che faceva miracoli e forse già ha capito tutto adesso è cambiato tutto beh però scusate qualche merito a Sarri gol del Genoa gol del Genoa ancora Piotek 5 a 3 quindi Genoa che prova ancora a restare in partita ma mancano 8 minuti alla fine della sfida con il Sassuolo Londa intanto seguiamo quello che sta succedendo oltre al volto sempre più affaticato di Mimmo Pesce c'è un calcio di punizione per il Napoli nella prova in metacampo c'è anche un giocatore che Zoppi che è Allan ma il Napoli ha già terminato le sostituzioni perché ne ha fatte due all'intervallo poi è entrato anche Rog mentre Amsic è inquadrato questo manca in campo in campo manca questo in campo manca questo è vero è vero che dura che dura 20 minuti 25 minuti 30 minuti però manca questo tradotto a Pompilio di Amsic non frega niente lo usa solo per attaccare Ancelona quindi stai zitto ok però insomma quando lasci fuori un nome così poi è ovvio che ti viene subito poi dopo dopo il mondiale scusami dopo il mondiale i campionati non sono strani va che roba ma cosa c'entra questo Sassuolo Spal ho capito io e Fiorentina in parti alta e andiamo a sostanza non c'è niente di male a dire che stasera Ancelotti ha sbagliato la partita ma tu il calendario lo guardi le partite ma Fiorentina ne ha fatte due in casa con Chievo Udinese guardi queste cose ha fatto cinque gol infatti adesso è il nuovo per Napoli prova con la palla si alza però c'è un fallo 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 di un as intanto ancora da casa ci scrivono salutate la capolista Juve già prima auguri e quando la ripigliate salutate non salutate nessuno non salutate nessuno non salutate nessuno non salutate nessuno cerca di vincere in Europa esatto 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 non salutate nessuno non salutate nessuno va bene e noi non siamo dell'Inter salutate la capolista bel gesto di Quagliarella che è andato vicino a Ospina l'ha abbracciato come per dire ma anche Ospina è stato carino ha detto attenzione ci provano a fuori aria Milaic veramente inguardabile particolarmente contento Ospina di ricevere l'abbraccio di Quagliarella dopo il gol intanto tiro fuori bersaglio di Milic poteva fare qualcosa di meglio calcio di rinvio per la Sampdoria vai Gianluca si giocata corta da Udero adesso Sampdoria che ovviamente può giocare sul velluto può assolutamente gestire si torna da Udero Napoli che ovviamente ci tiene perlomeno a chiudere la partita in altro modo e adesso attenzione il solito pressing forse è nato vediamo se si complicano la vita quelli della Sampa ancora Beresinski e poi sbai fatti regalano il pallone in fallo laterale ma c'è stata una spinta alle spalle anche se ride attenzione perché è già munito adesso le proteste di Allan arriva un altro giallo qua diceva bene Mimmo non accumuliamo inutili giallo ma sembra che si è finita la partita ha preso Allan per proteste una cosa inutile sì devo dire che anche appunto la famosa calma che spesso ha trasmesso le sue squadre Ancelotti in questo momento invece non sembra trasparire non è che però non prendessero mai un giallo le squadre di Ancelotti no però che sul 3-0 vadano ad accumularne non è proprio il massimo ma sì ma non ha senso cioè l'avevi dato anche tu come consiglio che sei una grande testa di calcio ma esatto la partita è finita hai perso basta chiuso va bene seguiamo questa azione intanto vediamo se magari attenzione il pallone adesso da Borreto in avanti anticipato da Cullivari sì Allan ma è come una bella palla ovviamente ancora la Sampdoria va aspettando appena tocchiamo un calcio a tre la Sampdoria si butta per terra sì però questi mica si fermano vanno avanti conclusione da lontano spino tiro fuori c'è un calcio di punizione anche per il Torino palla messa in mezzo ma la difesa della Spal riesce ad allontanare la minaccia insomma grossa delusione insomma questo Napoli si pensava che appunto dopo i segnali d'allarme delle prime giornate rimediati desse prova diversa questo perché non ascolti quello che dice Ordine Ordine è stato di una chiarezza chiarezza incredibile cosa ha detto di una chiarezza unica ma cosa ha detto cosa ha detto senti non se lo ricorda non sa neanche quello che deve dire il professor Ordine ha detto chiaro e tonto comunque Cercelotti deve fare tre gol in sette minuti esatto 8 intanto da casa dicono Cesaro per svegliarti campionato a febbraio guardando anche capito in una finale che tu sei stato a casa a cantare come tante altre però è lì che non eri te l'ho detto per svegliarti te la sei andata a cercare no l'età posta quando ti punta ti punta io ho finito la finale l'ultima finale che ho vinto dicembre però scusate il concetto che esprime il nostro telespettatore che non si firma però la sensazione è che noi abbiamo discusso tanto su anti-Juve 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 ad oggi non esiste una squadra non c'è credibile finalmente almeno questa chiedo scusa per il francesismo questa minchiata la mandiamo in pensione già alla terza ma come fa a esserci un anti-Juve la Juve se giocasse con la seconda squadra può lottare per la Champions però voglio dire l'anno scorso il Napoli viaggiava da quelle parti sai cosa mi sono inventato ieri ho messo giù i migliori di Inter Milan, Roma e Napoli se li mettiamo insieme non sono forti come la Juve ma di te di quelle cose la Juve la Juve Patrick no credo si chiami Ronaldo che si chiama Vieira se non ricordo male però non vorrei sbagliarmi prego si allora la mette in mezzo fuori misura fuori misura ma finiamola qua sto scempio Mimo basta non è serata non è serata basta ma che bravo devo dire Garioni si chiama Ronaldo Vieira Nanna però però quando veniva attaccato Sarri per il suo bel gioco che non si poteva sostenere in questo paese che Sarri giocava bene no? a proposito di chiarezza perché Pompiglio sottolinea solo le cose che gli fanno comodo a lui ovvio fino all'anno scorso Sarri gli sputavano addosso perché non ci si poteva per me scusami non ha la scuola ora puoi continuare questa non c'entra niente con il campo con il gioco e con il Napoli e con i duelli scudetto non c'entra assolutamente niente la giacca la cravatta o la tuta non c'entrano assolutamente niente come non c'entrano niente? però negli anni scorsi Claudio e soprattutto l'anno scorso qualche volta mi è capitato di dire guardate che Sarri faceva rendere i giocatori del Napoli molto di più del loro valore Carlo Ancelotti gestisce anche una squadra che al di fuori della costruzione di Sarri al di fuori della visione di Sarri ha dei singoli che vanno un po' ridimensionati che sono da primi 4-5 però anche Ancelotti deve essere un valore aggiunto come lo era Sarri attenzione cosa ha sbagliato non è serata Ancelotti non ha le ossessioni la visione la sistematicità di Sarri è un altro allenatore è un gestore di campioni questo mi sta dicendo allora è incredibile l'errore di Mertens è vero che siamo sul 3-0 ma da uno come lui parla messa praticamente più facile di un calcio di rigore direi per Mertens che invece tira fuori bersaglio Ancelotti ci ha messo del suo in negativo al primo tempo sbagliata la formazione vediamo ancora il Napoli dai gli ultimi assalti Mimmo ci prova adesso ancora il Napoli ma insomma scarica dietro su Opina Opina allarga sulla sinistra a cercare subito Cuba Libre Cuba Libre li viene vicino al bersagliere Sardo Mario Ruio Mario Ruio in mezzo ancora su Alana Mechita si guarda in mezzo Luc Luc scarica tutta destra bello Ananassa puntual fa vedere veramente un aggancio favore bello ma non efficace però Sandole ha giocato oggi poi se non ha sbagliato niente soprattutto non sono calati non sono calati si ottima partita quella della squadra giocare a Genova nelle prime cinque giornate è sempre stato perché comunque attenzione Quagliarella ancora fa partire un destro che viene deviato in angolo e questo qua andava in porta sono sicuro diventava pericoloso conoscendo Quagliarella andava in porta questo ma perché non lo pigli all'Inter ma a me due lire due lire voleva due lire come punta di riserva da spaccare la partita è fantastico c'è un altro attaccante non ti bastano i Cardi Lautaro Martinez che è ita ma non hai invece i Cardi non c'è come caratteristiche fisiche quindi va bene va bene guadagni un calcio d'angolo la Sampdoria mancano ancora Quagliarella non è una primissima però lo sa fare poi Quagliarella vecchio cuore biancolero vecchio cuore biancolero Quagliarella sarà tifoso del Napoli Quagliarella quando fa quella voce gli reciterei le corde vocali in diretta a Toro gli hanno detto ma alla conferenza è stancata si può dire lei però ha giocato la diversa scusate sei vicino quello che ho alzato là non lo ha alzato sei vicino sei lì con quella faccia lì che non fai niente se lo evisceri direttamente da qua gli stacchi le piglò fermi lì restiamo sulla partita dai seguiamo la fine dai Mimmo l'anno si porta in mezzo mamma mia prende un calcione era ora che cominciassi a tirare fuori un limone ha senso unico sto arbitro vergogna questo qua però si chiama Ronaldo Vieira aveva il papà che era un po' tifoso io ti dico che anche la Juve stasera a questo campo avrebbe avuto difficoltà non perdeva ma pareggiava va bene vedremo insomma come andrà la Sampdoria vedremo anche alle partite ipotetiche le partite presunte sul campo della Samp quanti riusciranno a portare a casa il paradigma proiettato la proiezione di una partita proiettata su un'altra proviamo a mandarle sovrapposte proviamo a mandarlo è un inizio incoraggiante di Franco no 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 due minuti al novantesimo dai Mimmo forza dai dai Mimmo raccontaci questo cosa fa Napoli andiamo da spronali dai si ti sprono ti sprono sciolgo le trecce e i cavalli mamma mia guardate che roba come è stato deturpato Alan ha preso veramente un calcione incredibile qui Napoli addirittura in dieci in quest'ultimo finale Alan Caviglia particolarmente gronfia attenzione perché questi mica si fermano sulle ali dell'orgasmo attenzione palla ancora dentro sbagliato sì dell'entusiasmo bene l'orgasmo l'unica l'unica la parola brutta l'unica nota positiva che vedo è che comunque l'ancillotto ha messo in campo dei ragazzi che l'anno scorso non vedevano mai la scuola però l'esito non è stato si dovrebbe intuire perché Sarri non utilizzava l'anno scorso qui si dovrebbe capire quando si chiedeva più turn over poi insomma no devo dire che poi adesso non ve l'ho segnalato ma anche per quello che per i fatti di Genova era la prima c'è anche il pubblico secondo me è veramente finita Lazio Frosinone finita Lazio Frosinone Lazio vince 1 a 0 ha fatto sbuffa Simone Inzaghi perché ha fatto più fatica insomma del previsto nel senso che ha fatto tantissime azioni ma poi negli ultimi minuti poi un solo gol mentre attacca l'Atalanta siamo al 93esimo è sotto di un gol in casa col Cagliari mancano ancora due minuti però per i bergamaschi per cercare magari l'Atalanta ha preso la mazzata a Copenagheri cosa è successo? una pallonata ha calciato il pallone addosso a Barreto che era a terra a Zielinski bisogna spiegare che la stagione non sono solo le due parite con il Milan ma tutte perché gioca solo con il Milan Zielinski? sì ah ho capito va bene seguiamo gli ultimi minuti del Napoli cosa sta succedendo? sì ma è ancora Samp e Doria attenzione ancora la Doria pallone che adesso viaggia ancora sul settore sinistro sulla tre quarti tre minuti di recupero sono già iniziati Barreto ancora per Ronaldo Vieira e poi il pallone ancora io non riesco a chiamarlo Ronaldo Vieira questo qua però parte prova a partire da solo palla ancora di esterno destro adesso per Beresinski chiamalo Mario chiamalo Mario ancora giocatore inglese Ronaldo Vieira poi palla che viaggia ancora su Beresinski Beresinski linea di fondo traversone colpo di testa ancora all'indietro a imbeccare l'arrivo di De Frelle e poi c'è un fallo ancora su Milicca calcio di punizione per il Napoli sì prova a batterlo subito due minuti di recupero due minuti si possono fare tante cose almeno io lo faccio anche con molto 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 meno la doccia Drin scarica in mezzo viene dal retrovie Mario Ruio il bersagliere Sadio che si infila tra le linee scarica su Drin 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 Scalana ma bello colpo sotto ma troppo Audero c'è tranquillo un minuto e 40 secondi alla fine vi lascio immaginare stavo dicendo per i fatti di Genova che cosa rappresenta questa partita ovviamente per il ferro Cagliari espugna Bergamo porta a casa la vittoria 1 a 0 incredibile Cagliari ha vinto a Bergamo attribuito a Barella nonostante il tocco di Pasalic nella propria porta dai Mimmo sempre più siamo tutti lì incredibili bagnata adesso è Albiol Casatiello allarga a sinistra c'è il bersagliere Sadio che la mette a terra sovrapposizione cerca subito Drin ma è troppo longa però sbaglia a rimbio la recupera ancora Mario Ruio che è su un minuto l'ultimo minuto di gioco è iniziato sarà un minuto di gestione del pallone da parte della Sam Doria 3 a 0 ho detto di gestione del pallone Audero e lo regano a Napoli ancora la palla sui piedi oh god Casatiello allarga su Ananas Portual troppo lunga troppo lunga rimessa Samp 30 secondi da casa ci dicono Sarri non si può sostituire casomai se lo fai non con un Ancelotti che non ha campioni per Carletto sarà dura Mimmo dove vai con Rogue e Ananas ti chiedono tranquillo adesso entra Cavani e recuperate vedo che hai gradito molto la battuta prego attacca la Sampdoria finita 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 tutte tranne ovviamente Torino Spal dove è iniziato in ritardo se è su da Son finisce domattina alle 8 vediamo la classifica in questo momento com'è con la Juve a 9 punti unica a punteggio pieno Sassuolo e Spal a 7 punti poi Fiorentina e Napoli a 6 Atalanta Caglia Riempoli Inter Roma Udinese a 4 Genoa Lazio Milan e Sampdoria a 3 Torino 2 Bologna Chievo Frosinone Parma un punto quindi al momento nessuna squadra a 0 punti Samp che vince la sua prima partita però ha sempre una gara da recuperare da casa devo dire che sono scatenati sul Napoli forse conviene uscire dal campionato e puntare alle coppe a scelta dice Ilario con me questo consiglio è meglio tutte le squadre non solo a Napoli perché tanto c'è la Juve e poi tutte le altre quindi fallo anche per il tuo Mila per l'Inter per la tua non so che squadra tifo vale per tutti vale per tutti stasera è proprio incazzato va bene volevo capire anche da Franco se questa classifica ci può dire due cose uno che non è più il campionato dell'anno scorso dove comunque sembrava che un gruppo vincesse sempre che stavo detto ma venite sempre sulle mie parole ma venite sempre con un rigore ma ecco si ma non puoi ridurla solo al fatto che ragazzi qua abbiamo detto scusa poi la domanda l'ho fatta a ordine no ma qua abbiamo detto uno che chiama da casa per dire Sampdoria 2 a 1 non è andata così quell'altro che dice adesso prende i gol poi però il Napoli vince con Riti danno il rigorino e poi pretendono anche che si dicano però tutte e due avevano identificato le difficoltà del Napoli grazie la verità Franco dicevo questa può essere una lettura o è solo calcio così di inizio stagione no ci sono due o tre elementi che fanno capire intanto che alcune squadre che hanno molto cambiato mi pare che siano in difficoltà e c'è soprattutto secondo me alcune squadre di grande debolezza di grande fragilità tra queste segnalo il Chievo e il Bologna poi secondo me c'è un altro aspetto l'Atalanta ho l'impressione che abbia preso la mazzata dell'escursione e che l'abbia pagata anche sul piano fisico e nervoso stasera c'è obiettivamente una grande novità calcistica che è il Sassuolo di De Zerbi e poi secondo me c'è da fare un ragionamento sul Napoli perché il ragionamento sul Napoli è che tutti i difetti le ombre e le omissioni che erano state denunciate durante il calcio estivo sono venuti a galla tutte insieme nella partita di stasera con la Sampdoria io penso che questo è un problema sul quale deve molto riflettere e molto intervenire Ancelotti volevo capire se secondo voi a sorpresa quelli che prima elencavamo essere come dei punti deboli o dei problemi della Juve invece possono poi emergere nelle prossime partite o no cioè sarà senza storia questo campionato la classifica dice che nelle prime tre giornate un po' tutti faticano perché comunque la preparazione come diceva Vito in mondiale e cose varie però se hai dei campioni comunque tu li vinci nel momento il 94esimo ha vinto a Verona ieri a Parma ha vinto faticando però ha vinto e alla fine i campioni servono per questo vedendo queste prime giornate possiamo dire che il secondo il terzo il quarto posto sono in questo momento discutibili incerti io sto dicendo solo una cosa è una classifica per la vittoria del Milan sulla Roma per questa della Sampdoria che non mi aspettavo che per l'avvio orrendo che ho fatto io alla terza giornata ti conforta una manna è venuta da Cese molto sinceramente ma ti dirò di più un altro risultato che non consideriamo a Tala certo beh ovvio che discorso io devo fare nove punti sulla carta quindi figura se non c'è rammarico e resta la crisi perché anche ieri la prestazione non è stata all'altezza ma anche il Cagliari che va a vincere a Bergamo roba che proprio non mi aspettavo nella nella maniera e però cioè essere lì tutti a quattro punti poi torno a dire il Milan deve recuperare però essere lì con i tuoi competitor Napoli Roma e comunque Milan nei dintorni non me l'aspettavo voglio chiederti una cosa il gioco espresso ieri dall'Inter ti lascia tranquillo o no? no no deve migliorare ragazzi deve migliorare cioè non il gioco del calcio è un'altra cosa bruttissima cioè stasera io ho visto posso dire ma non perché stasera ho visto un calcio straordinario esatto cioè la Sampdoria certe volte mi ha deluso mi ricordo l'anno scorso con l'Inter non ne beccavano però torniamo lì Sampdoria che è capace a volte di fare partite di questo tipo spettacolari affascinanti però io se vieni dietro un discorso che ci dovremmo arrivare tutti comunque è una squadra che si consolida con lo stesso allenatore da due anni è un gruppo che cresce anche la Sampdoria ha una partita in meno con la Fiorentina in casa è un gruppo sempre insieme da un po' di tempo che cresce calendario anche facile della Juve però delle grosse squadre calendario facile della Juve delle grosse squadre ma che significa che è il tuo calendario facile poi scusa io incontro il Napoli e la Roma poi scusa un attimo il calendario facile è per te ma non era mai inutile ma cosa parlando dell'avvio no si può dire l'avvio è stato più facile però un attimo ha giocato anche con la Lazio non è che ha giocato con la Lazio in casa ci sta ha giocato con la Lazio in casa ha giocato due partite fuori il calendario non c'è ma sai la prossima chi c'ha vai a vedere chi c'ha la prossima il calendario non c'entra il suo problema cioè il formo che tutti prima o dopo incontrano tutti sì è vero però se parliamo di questa tranche lei è stata la più regolata il Napoli ha avuto adesso sinceramente io l'ho vissuta l'ho partecipata molto Claudio ti spiego adesso dico una cosa che magari voi non perché io avevo l'audio cioè guarda che stasera io insisto su questo anche il minuto di raccoglimento i fatti di Genova la cosa di Quagliarella cioè io cioè la Sampa aveva dato una spinta ma mia cioè era una roba stasera forse perché come ricordava anche giustamente prima Mauro però noi eravamo abituati a vedere era la prima era la prima quindi andare lì adesso la concentrazione potrebbe essere qualcosa di superiore l'impegno come motivazione però noi eravamo abituati a vedere le partite del Napoli tutte bene o male uguali salvo qualche eccezione nel senso il Napoli prende la palla e sta lì sta lì sta lì parliamo di quest'anno sbaglia i primi tempi perché è un po' col Milan quando stava reagendo che io ho detto adesso è un altro Napoli lì veramente il pubblico qualcosa lì ha però la grossa cioè era un punto fermo del Napoli l'idea di prendo la palla la tengo io gli altri si devono adeguare a quello che è il mio tipo di gioco non è più così Claudio quel Napoli non esiste più però era la seconda realtà del campionato italiano secondo me lo è tutt'ora ma è tutt'ora ma ragazzi mi siete dimenticati che la Juve l'anno scorso ha pareggiato a Torino con il Coso con il il Coso il Coso il Presidente dell'Aurentis che negli ultimi anni ha fatto dei miracoli perché avere l'attivo di bilancio e la squadra in Champions League lo sappiamo bene noi a Milano è un miracolo però miracolo sportivo una grandissima cosa secondo me però ogni tanto e questo è il Presidente dell'Aurentis che fa calcio con la testa però oltre alla testa c'è anche la pancia e quando dell'Aurentis fa calcio con la pancia ogni tanto si mette in competizione con i suoi allenatori un'estate voleva far vedere a Mazzarri che il Napoli era lui e non Mazzarri perché il Mazzarri di Napoli era molto famoso e molto autorevole e gli è andata bene perché dopo Mazzarri ha preso Sarri ed è ripartito quest'estate ci risiamo ha voluto vedere se il Napoli era lui o ha preso Benitez e è andata male però sono arrivati Guain l'esperienza di Benitez è andata male però diaporato i giocatori poi l'altro allenatore che dopo Mazzarri si è messo grandemente in luce ed è entrato in competizione come immagine con De Laurenti era Sarri quest'estate ha voluto vedere il Napoli sono io o è Sarri e stando per carità con Lazio Napoli ha avuto anche un calendario duro Lazio, Mina, Sampdoria insomma tutte partite che dovevi discutere però ad oggi era più Sarri il Napoli di De Laurentiis ed è un un fatto questo con cui dovrà misurarsi con pazienza De Laurentiis per tutta la stessa velocemente un dato statistico che non avevamo notato ma se ci pensiamo una roba incredibile anche questa quando dico incredibile Inter-Torino Napoli ha preso sei gol ai primi sei tiri nello specchio cioè c'è questo fatto statistico sul cui si sta molto discutendo i primi sei tiri nello specchio gol in tre partite in giocca senza portiere visto che l'anno scorso qualche solone criticava Reina ogni tanto no 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 ma lei è sfiga Mauro dai che sfiga non è sfiga Giallo ma che sfiga ragazzi ma i primi sei tiri nello specchio in tre partite gol ma se tu non hai un portiere è una fase difensiva registrata come lo è la fase difensiva io ieri vedevo la Juventus e la Juventus ancora la fase difensiva non è registrata bene perché piglia piglia gollo la Juventus non si lascia tranquilla no 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 la fase difensiva non mi piace Cesare sono due cose differenti però Juve-Napoli è la fase difensiva perché la Juve quest'anno gioca con due terzini che sono due esterni alti il Napoli non gioca con due terzini che sono due esterni alti accompagnano spesso sì però vuoi mettere Cansele o Quadrato il vero problema del Napoli è come ha subito i due gol così come l'aveva subito con la Lazio allora con la Lazio come subisci il gol tre contro uno e prende gol contro il Milan prende gol diciamo ai primi due tiri in porta però oggi prende gol sulle ripartenze della Sampdor dopo due azioni manovrate se mi consenti non due tiri in porta così da un altro pianeta stranamente la palla no no però i primi due tiri in porta così non è vietato oggi no assolutamente no oggi prende gol lasciando alle sue spalle 30-40 metri di prato libero questo secondo me è un problema di natura tecnica complessiva e tattica che ha a che vedere con il fatto che non è non è riuscito a dare a correggere niente e a mettere niente di nuovo di suo e sta prendendo solo e soltanto un po' di quello che è rimasto esattamente volevo capire però Cesare tu dicevi fase difensiva che ti preoccupa a me a me la Juventus a me la Juventus ieri ieri avrai ragione tu che i due terzini però a me la fase difensiva della Juventus mi preoccupa si 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 c'è gente che non dorme la notte si 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 uno deve dire perché la Juve piglia due gol a cosa con il Chievo a Verona con il Chievo piglia un gol ieri ma stiamo scherzando la Juve la Juve ha capito che per vincere deve segnare più gol degli avversari ma di cosa stiamo no te lo spiego ma più gol degli avversari mi segni una volta due volte la terza volta a Cardiff la terza volta a Cardiff l'anno in cui avete fatto la finale a Cardiff buoni buoni una volta Bettino l'anno in cui avete fatto la finale a Cardiff Cesare un attimo voi vi presentate a Cardiff avendo subito solo tre gol tre gol il Real Madrid si presenta a Cardiff avendo subito 17 gol eppure ma tu hai visto giocare il Real Madrid ma infatti in quale lo sta andando stiamo dicendo la stessa cosa in Champions League tu vinci segnando tanti gol perché il Real Madrid pur avendo subito 17 gol poi in finale ti ha battuto 4-1 questa è la realtà esatto allora la Juventus ha capito che il gioco sparagnino di Allegri in copertura così può non bastare però voglio chiederti una cosa voglio chiederti una cosa voglio chiederti una cosa quello che voglio chiederti però è prima anche Vito diceva sì ma Cristiano Ronaldo con Real non è che abbia vinto tanti campionati il modo di giocare che la Juve sta provando a esprimere è un gioco forse più vicino alla Champions ma che quindi come dice Cesare non gli lascia sonni tranquilli per il campionato ma no ma in campionato la Juventus abbiamo detto prima ha talmente tanti campioni che pur subendo un gol a Parma subendone due a Verona comunque la Juventus riuscirà sempre a vincere perché comunque una giocata un pure Napoli perdeva con Lazio perdeva in campo con Cesare attenzione io ho capito dove vuoi arrivare le rimonte le rimonte non sono mai certe attenzione sì ma su un campionato che è lungo su un campionato che è lungo la forza la squadra più forte vince sempre nella Champions dove praticamente c'è la partita secca in quella partita lì gol del Torino gol del Torino gol del Torino un culù gol del Toro in vantaggio 1-0 siamo al 51esimo con la Spal Mazzarri incita i suoi dopo la rete di Nicolas Nculu l'onda Gianluca una coccola ai tifosi napoletani che sono giù di morale con quel grandissimo professionista che è Quagliarella che dice questo gol lo metto nei tre più belli che ho fatto me ne ricordo due da centrocampo uno col Napoli uno con la Samp hanno fatto vedere tutti i gol di tacco della storia anche quello di Palacio del Piero nel Derb però Amantino Manzini si esatto però lui dice una cosa molto carina che ti farà piacere mi spiace che i gol belli li faccio sempre al mio Napoli e comunque loro devono sapere che io tifo per loro e qua un piantino me lo devi fare mi fa piacere mi fa piacere però potrebbe anche millantare una pubalgia scusami allora scusa ma no ma proprio col Napoli lo ringrazio Quagliarella ha detto che tifo per il Napoli quindi non è un cuore bianconero cuore bianconero ma ha detto tifo per il mio Napoli tifo sempre per loro ma quello vive in un mondo di sandetti che quando devo contare di fantasia di arbitri di Minovo ma tu stai ad arresta a quello con quello che andrà a cieco ma quando andò a giocare col Torino gli hanno detto alla presentazione ma lei ha giocato con la Juventus per favore non parliamo che i trofei che ho innalzato nella vita vabbè fermi lì si confonde con un altro si confonde con rincontro ma dopo la Juve è andato al Torino